Coronavirus, stando al bollettino emanato da Azienda Zero, nella nostra provincia i contagi attuali si attestano su 190 unità, con 7 ricoveri al San Martino di Belluno. L'Ulss Dolomiti segnala che ad oggi le dosi di vaccino somministrate nel territorio sono oltre 254.000. Il 76% della popolazione vaccinabile, pari a 138.500 persone, ha eseguito almeno una dose di vaccino anticovid, il 68,8% invece ha ricevuto il ciclo completo. Per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, l'azienda sanitaria bellunese da qualche giorno sta pubblicando sulla sua pagina Facebook le testimonianze di alcune persone che nei mesi scorsi hanno contratto il virus, sconfiggendolo non senza qualche difficoltà. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nella campagna informativa, ha riferito il direttore generale Maria Grazia Carraro, in particolare i testimonial come Bortolo Mainardi e Remo De Mario che in questi giorni hanno raccontato la loro storia. Se non i numeri, conclude Carraro, l'esperienza vissuta dalla gente di questo territorio dovrebbe far riflettere e per dare l'opportunità ai bellunesi di vaccinarsi sono state aggiunte altre date al calendario proposto dall'Ulss per le sedute vaccinali ad accesso libero che riguardano la prima dose. Sabato 28 agosto porte aperte a Chies dal Pago presso l'ambulatorio di Lamosano e a Caprile. Da Venezia intanto il governatore Zai ha intervenuto sul tema del Green Pass, il cui obbligo dal 1 settembre sarà esteso a livello nazionale ai docenti e ad altre categorie. È inevitabile che questa forma di certificazione ci accompagnerà ancora. È pur vero che se lo vediamo sempre dalla parte di chi non ce lo ha, giustamente chi non ha il Green Pass dice mi tocca quantomeno farmi un tampone, poi c'è anche chi non vuole farsi neanche il tampone, quindi diventa problematico. Se spostiamo l'osservatorio un attimo e lo guardiamo dalla parte dell'80% delle persone vaccinate, ti dicono scusami, io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio per la comunità, non capisco per quale motivo devo essere io adesso a doverci rimettere. Io spero che si venga fuori da questa partita del Covid, non con una società spaccata a metà.